Queste le immagini sciocche della rapina fatta da due degli arrestati per finanziare le attività di spaccio dopo alcuni sequestri di droga fatti dai carabinieri. È il 29 marzo scorso quando a Nocera Superiore nel supermercato Sole 365 con violenza inaudita costringono il cassiere del supermercato a consegnare 15.000 euro. I due non sapevano di essere intercettati. Erano controllati da tempo, da quando un gambiano residente in una struttura d'accoglienza di Caster San Giorgio, era stato individuato nel centro storico di Salerno mentre si riforniva di droga, che poi aveva pensato di spacciare sul lungomare cittadino prima di far ritorno nel comune dell'Agro Nocerino Sarnese. Di qui si risale gli spacciatori che operavano in tre aree geografiche, tre nel centro storico della città di Salerno, due a Fratte, sempre a Salerno, ed i restanti sei a Caster San Giorgio, Nocera Inferiore e Superiore. 13 gli indagati in tutto, per 11 di loro sono scattate le misure cautelari, sei in carcere, tre ai domiciliari e due agli obblighi di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Adoperare la Compagnia dei Carabinieri di Mercato San Severino, agli ordini del Maggiore Alessandro Cisternino. Spacciavano eroina, crack, cocaina, hashish, marijuana. Alle 11 misure cautelari se ne aggiungono altre sei eseguite in fraganza di reato con il sequestro di 350 grammi di varie sostanze stupevacenti. Disposto inoltre dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, anche il sequestro preventivo di due immobili a Nocera Superiore, utilizzati come base operativa dello spaccio da uno degli arrestati. Un'operazione lunga e laboriosa che ha svelato anche un cambiamento nei rapporti fra spacciatore e consumatore. Su 40 di questi ultimi fermati dopo che avevano comprato la droga, solo due non hanno denunciato chi gliel'aveva venduta. In passato questo assolutamente non accadeva perché c'era un legame inscindibile fra il consumatore e lo spacciatore, il fornitore. Il consumatore aveva paura di perdere la fonte, il personaggio che gli garantiva la qualità, il prezzo e la disponibilità continua dello superiore. Oggi questo non è più un problema perché se si è diffuso in maniera allarmante, endemica, il fenomeno del consumo, sia altrettanto diffuso, proprio perché la domanda è altissima, il numero degli spacciatori. Quindi non c'è più un rapporto di fidelizzazione fra acquirente e spacciatore. Tu sai bene che se anche quel fornitore non sarà poi in futuro più disponibile a darti la droga perché tu l'hai accusato, ma tu non avrai nessuna difficoltà a trovarne un altro. Così come pure un'altra cosa che ho notato, per esempio lo spacciatore che viene a fornirsi a Salerno e poi prima di tornarsene nel centro di accoglienza dove si trova a Castel San Giorgio, se ne va sul lungomare e va a spacciare un po' della sostanza che aveva appena acquistato per spacciarla nella zona dell'Agronoceno Sarnese, a Castel San Giorgio in particolare.